Dal primo libro dei re In quei giorni, Salomone andò a Gabaon per offrire sacrifici, perché Ivi sorgeva all'altura più grande. Su quell'altare, Salomone offrì mille olocausti. A Gabaon, il Signore apparve a Salomone in sogno, durante la notte. Dio disse, chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse, tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono, come avviene oggi. Ora, Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse, poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare. Ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria, come nessun altro fra i re, per tutta la tua vita. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Come potrà un giovane tenere pura la sua via, osservando la tua parola. Con tutto il mio cuore ti cerco, non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. Benedetto sei tu, Signore. Insegnami i tuoi decreti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Con le mie labbra ho raccontato, tutti i giudizi della tua bocca. Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro, Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono. E da tutte le città corsero là a piedi e li precedetero. Sceso dalla barca, egli vede una grande folla. Ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore. E si mise a insegnare loro molte cose.